Il caldo torido delle scorse settimane ha messo letteralmente in ginocchio l'agricoltura e la zootecnia un po' in tutta la Puglia. Drammatica la situazione in provincia di Foggia e nel Barese. Il 50% della produzione di pomodoro in Capitanata ha subito gravi danni. Il presidente della Coldiretti Puglia, Pietro Salcuni, ha chiesto l'immediato stato di calamità naturale alla luce della presentazione da parte dell'Ufficio Agricoltura di Foggia della relazione circa lo stato di salute della coltura del pomodoro per eventi climatici avversi. La prolungata siccità, sottolinea Salcuni, ha vanificato gli investimenti avviati per l'annata agraria dei ortaggi e frutta. Oltre a determinare un forte ridimensionamento delle riserve idriche negli invasi e a provocare un forte abbattimento del reddito delle imprese agricole, determina un'elevata perdita di economia indotta. Si registra infatti una diminuzione secca delle giornate lavorative offerte dall'agricoltura, ma anche una decisa contrazione della spesa a monte e a vale del settore primario. Solo in provincia di Foggia sono 3.500 i produttori che coltivano mediamente 20.000 ettari con una produzione di oltre 17 milioni di quintali di pomodori, pari ad oltre il 32% della produzione nazionale. Ma il problema della siccità riguarda in generale tutti gli ortaggi, con un calo generalizzato del 25% e per l'uva da vino fino al 15%. La regione Puglia, rende noto il direttore della Col di Retti Antonio De Concilio, ha dato la disponibilità per un'ulteriore assegnazione di carburante agricola da cisi agevolata, per fare fronte al momento di emergenza, misura che sarà allargata anche agli elevatori. Infatti, le mucche hanno prodotto in media dal 10 al 20% di latte in meno, con punte che arrivano anche al 50% nei giorni più roventi. Per le mucche il clima ideale è fra i 22 e i 24 gradi. Oltre a questo limite, gli animali mangiano poco, bevono molto e producono meno latte. Ma il settore è in difficoltà anche in provincia di Bari. A Bitonto, uno dei principali centri agricoli nel barese, il sindaco Michele Abaticchio e l'assessore dell'agricoltura, Domenico Incantalupo, hanno inviato al presidente della regione Puglia, all'assessore regionale all'agricoltura, al presidente della provincia e all'assessore provinciale all'agricoltura, la richiesta di attivare le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità naturale, in seguito alla perdurante siccità che nel periodo estivo sta duramente colpendo l'agricoltura. Per gli oliveti, dicono, i danneggiamenti stanno diventando strutturali, causando addirittura difficoltà sia nella vegetazione sia nel mantenimento della produzione. La situazione di crisi del settore agricolo sarà uno dei temi al centro dell'incontro in agenda nella prima decada di settembre, tra il sindaco di Bitonto e il presidente della giunta regionale, Michi Vendola.